Sì, guarda il canale del Drago Freebooter, capisci, fai il legale, fai Vuoi fare la cosa dei... Era lui quello con cui non ti saresti fidanzata ma lo ami Lo amo Ma sì, perché è vero che tu nelle live di Tue, mamma mia, viste quelle clip che lasciamo perdere Cioè? Tipo? Ma sì, tipo, cagate, è il solito Che cagate ho detto? Ma sì, è una cosa che dici in live Ti fai riferimenti ampi ma... Tipo? Nessuno, nessuno Dai Ho preinteso io sicuro Non fare il vago, davvero, dai, dimmi Ah, guarda che usi la chat perché non hai il coraggio di prendere la responsabilità tua di dire dirmelo Di dire dimmelo Dai, dimmi No, non te lo dico Ma mi dici almeno... Ma sì, guarda il canale del Drago Freebooter, capisci Ma nel legale, tra l'altro Giulia, io direi che non stai invitando nessuno in live ma ci sei solo tu Eh? No, va bene Eh, vabbè, almeno oggi, dai Sono passati quattro mesi da quando siete conosciuti Quanto? Quattro mesi Solo? Sì, ci siamo visti quattro volte, però, sì Quattro volte, Simone, non è vero Quattro volte è molto intensa Non è vero, secondo me ci conosciamo abbastanza, in realtà Perché parliamo molto Io sento di conoscerti Come non lo sento di persone che conosco da molto più tempo di te E noi abbiamo una sintonia che molti non hanno probabilmente Però questo non vuol dire nulla E poi Che ho stata E poi Che ho stata E poi Per Ma Grazie a tutti.